Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete capito dal titolo, parliamo di Yodi Yonko Sunu, nuovo difensore dell'Atalanta e ovviamente io non è che ne so poi tantissimo di Bundes, il buon Giorgio ne sa tanto, ma tanto di più e quindi l'ho invitato a parlarci un po' di lui. Allora, Giorgio, subito, così dritto, raccontaci un po' com'è il calciatore. Allora, com'è il calciatore? Allora, ti dico, personalmente a me è sempre suscitato molta curiosità, nel senso che quando già lo presero tre anni fa nel 2021 per 23 milioni dal Bruges, è vero che dal Belgio le squadre tedesche comprano bene, non solo le squadre tedesche, come sappiamo, insomma, anche in maniera diretta, però, insomma, mi sembravano tanti soldi per un ragazzo di 20 anni che non aveva mai fatto e sapendo un po', conoscendo un po' come gli scatoli delle vercuse, il lavoro, hanno ad adocchiare i talenti, il potenziale dei giovani, insomma, ho detto, cioè, mi son messo delle aspettative addosso, no, su questo ragazzo. Che poi, devo dire che in tre anni ha soddisfatto un po' sì e un po' no. Partiamo dal presupposto che lui si è trovato catapultato in una squadra che era già abbastanza ben, diciamo, costruita, ha fatto un po' fatica a trovare spazio inizialmente e poi in realtà, se andiamo a vedere il minutaggio, non è mai stato un titolarissimo, che non è uno di quelli che giocava a 3.000 minuti, ok? Neanche l'anno scorso. Però comunque, a prescindere da questo, ha sempre avuto il suo spazio con costanza. Il minutaggio dell'ultimo anno, faccio subito un appunto, va rapportato anche al fatto che è andato in Coppa d'Africa, con la Costa d'Avorio, l'ha anche vinta, quello che c'era, quindi, insomma, non è molto... L'anno scorso ha avuto un minutaggio da titolare, da rotazione titolare, diciamo, bravissimo. Bravissimo, anche perché poi l'anno scorso aveva comunque tre competizioni e poi è arrivata in fondo tutte e tre, due le ha vinte, una no, sappiamo benissimo quale, quindi, insomma, quindi, insomma, questo non bisogna ricordarlo. Diciamo che quello che forse un pochino lo ha limitato è che Cia Bionso l'ha utilizzato praticamente soltanto come centrale destro di una difesa tre. Quindi già questo, secondo me, è un tema che tornerà molto utile, anche poi ci torneremo sicuramente su. Non ha fatto praticamente altri ruoli. Nella Costa d'Avorio ha giocato a quattro, ha giocato a quattro, ha passato nell'Everkusen, però sempre sul centro-destra, ecco. Quindi già questo, secondo me, è un tema. E poi diciamo che si è sviluppato, io parlo specialmente di questi ultimi due anni perché è il percorso che ho seguito molto meglio con Cia Bionso, chiaramente, si è sviluppato come un braccetto che è molto bravo a giocare la palla con i piedi, quindi, insomma, uno che sa passarla, sa connettersi con i compagni, non è uno che rischia le giocate, cioè non montiamoci la testa pensando che sia un Bonucci che fa i lanci lunghi a 70 metri sui piedi degli attaccanti, ma è un giocatore che nel fraseggio, nell'impostazione bassa, è uno di quelli che la palla la sa trattare molto bene. Diciamo che pongo subito un riferimento al contrario, però dicendo quello che non fa, secondo me. Non è uno di quelli come faceva Toloi quando stava bene, che prendeva, partiva palla al piede ed era un carro armato che cavalcava, erava al campo. Ecco, lui è un giocatore che, anche venendo in un contesto più di palleggio, è un po' più ragionatore a livello tecnico. Poi a livello fisico, insomma, abbiamo visto tutte le foto, è un colosso, però è uno che spalla a spalla, insomma, fa fatica a spostarlo, però forse un po' quella cattivere un pochino gli manca ancora. Ma infatti, io nei miei ricordi, delle partite che ho visto, mi ricordavo questo colosso che spingeva parecchio in avanti in senso di supporto, cioè l'azione la seguiva, però non arrivava mai a menare veramente. E allora mi è incuriosivo questa cosa dire. Vabbè. Perché comunque, sai, anche per scuola calcio ivoriana, le legnano, nel senso, hanno un fisico che è devastante rispetto al resto del mondo e lo fanno pesare. Lui invece è molto, molto composto nelle cose. Sì, penso che è il fatto che comunque ha tanta scuola europea dentro, Svezia, in Belgio, a Belgio ti insegnano a giocare a calcio, ci può fare la scuola europea, e poi in Germania anche, però è verissimo, tanto che addirittura, ora non ricordo in quali partite, ma in un paio di occasioni, nei minuti finali, è entrato a fare anche il quinto alto a destra, per dimostrare che comunque è uno che la gamba ce l'ha, poi è chiaro. Penso che sia un po' come abbiamo visto Godfrey impiegato lì in situazione emergenziale, piuttosto che, ecco, non aspettiamoci di vederlo lì, però sempre sul lato destro. Questo qua è il tema, secondo me, sempre sul lato destro. Sempre, l'ho visto anch'io sempre lì. Ma infatti la cosa che mi interessava anche cercare di capire è che io quando ho letto il suo nome non è che sono stato contentissimo, nel senso, è un buonissimo giocatore, secondo me le cifre patrute sono un po' altine, se devo dirla tutta. Però io non pensavo che l'Atalanta cercasse un giocatore di quel tipo lì. Io lo trovavo molto più logica uno come Danso, perché l'Atalanta, uno che dirige, uno che ragiona, uno che è tecnico, ma tecnico nel senso della difesa, non tecnico nel senso del palleggio, poteva essere utile. Invece qua abbiamo preso un altro giocatore uguale praticamente a tutta la batteria che abbiamo. Foga, corsa, aggressività, magari non spinta, però nei contrasti, nei take, nei rubar palla. Sì, ha le leve lunghe, ma non ho mai visto fare delle prestazioni prettamente difensive, forti. No, quello sì, quello è vero, quello è verissimo, anche io penso. Poi sai, lui ha avuto la fortuna, specialmente nell'ultimo anno, di essere in una squadra in cui funzionava tutto. E questo chiaramente è come sempre una cosa che ti spinge e quindi ti mette in luce per le caratteristiche buone che hai, ma ti nasconde anche i difetti che hai, quando tutto intorno il contesto funziona molto bene. Guarda, sono abbastanza d'accordo, ti dico che sul prezzo, secondo me, molto è dovuto alla tempistica, al fatto che comunque, mancavano due giorni a fine mercato, il Leverkusen ha trovato il sostituto, che ce l'aveva già pronto, se no non l'avrebbe liberato, prendendoli in prestito secco, che è Mucchielete, ex Lipsia, ex Paris Saint-Germain, quindi diciamo che il prezzo e anche il fatto che magari non ci sia un obbligo, ma ci sia un diritto di riscatto, quindi volere comunque magari tra un anno vai, provi a ridiscutere, trovi un altro accordo, ecco, dà un pochino più di margine di manovra sotto questo punto di vista. E poi, secondo me, la terza cosa che fa la differenza è il prezzo che ha pagato il Leverkusen, perché comunque 23 milioni tre anni fa, con gli ammortamenti così, facendo un po' i conti della serva, quanto gli costa 8-9 milioni, ancora a bilancio, quindi comunque fanno una plusvalenza importante, perché comunque, per rispondere, 15-20, esattamente, però è comunque, e aggiungo, apri chiudo parentesi, Leverkusen questo anno non ha venduto, quindi è anche un po' l'unico giocatore da cui monetizzano, ecco, sotto questo punto di vista qui. Secondo me, cioè, per dire, se la prendevi l'1 agosto non facevi 5 più 25, ma facevi magari 4 più 21, ecco, per il periodo chiaramente fa. Ma quando tu hai letto, o non avrai letto, penso che ti sarà arrivata la notizia in maniera differente di questa operazione Lambo, te cos'è che hai pensato? Allora, sono stato abbastanza incuriosito, soprattutto perché, come dicevi tu, giustamente non credevo che cercassero un profilo di quel tipo lì. Però, dall'altro lato, pensandoci, ho detto, effettivamente, guardando anche un po', mettendo le cose in prospettiva, da quella parte lì della difesa, forse un giocatore, non voglio dire specializzato a fare il braccetto destro, perché è un specializzato un 23enne, comunque non è neanche, secondo me, troppo corretto. Però, tutto sommato, come concezione ci sta. Io ho anche pensato che forse, dopo aver visto un mese Godfrey, se vai a prendere come lui un giocatore che gioca prettamente sul centro-destra, magari forse non sei neanche convintissimo di quello che sto lì. Mi è balenata in testa anche questa cosa, però, insomma, poi vedremo. Però io non è che ci veda, avendo visto più Godfrey a momenti di... non è che li veda così... No, 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 a me pare quel giocatore lì, alla fine... No, questo è vero, però sai qual è il fatto? Se tu vai a prendere un giocatore, paghi 10 milioni, poi dopo due mesi ne prendi un altro che paghi anche di più, cioè mi sarei aspettato, come dicevi giustamente tu, uno magari che o è più polivalente, che può giocare in più ruoli in difesa, mentre invece lui non lo è, o uno magari proprio con caratteristiche differenti, come hai fatto giustamente tu l'esempio di Danzo, ma ora non me ne viene un altro, ma... Sì, no, è un po' variante, ecco. No, ecco, quello che ho pensato io è, guardando un po' tutte le cose in prospettiva, soprattutto non solo su questa stagione, ma anche sulle prossime, perché comunque un giocatore di 23 anni che va a inserirsi in un contesto in cui hai comunque due giocatori che hanno la loro età come Jim City e Cola, che sono ancora nel pienissimo della loro carriera, però comunque sono sopra i 30, c'è un giocatore invece come Scalvini che ha 21 anni, Yen che è un po' la via di mezzo, Godfrey che è un po' la via di mezzo, ecco io guardo un po' pensando anche un po' al reparto, come potrebbero pensare di vederlo tra un anno e tra due anni, perché secondo me se tu avessi pensato solo a questa stagione non avresti preso un 23enne che magari giocava solo in una posizione, piuttosto che avresti fatto magari un ragionamento diverso, come era Becao, Becao è un profilo diversissimo per tutti i motivi che abbiamo detto fino adesso, quindi ecco sono più incuriosito sul lungo termine, sul breve, infatti secondo me a proposito di questo servirà pazienza, perché comunque parliamo di un giocatore che viene da una squadra che faceva un calcio molto diverso, era abituato, aveva richieste molto diverse, non so se più o meno consone le sue caratteristiche, perché poi come dicevano prima, aveva dei compiti talmente specifici che le caratteristiche vere, secondo me, fai anche fatica a farle venire fuori tutte. Sai però, in un campionato come la Serie A, i compiti che gli vengono dati, avendo un gap fisico con penso l'85-90% dei giocatori presenti, secondo me riesce a interpretarli anche abbastanza facilmente, cioè pressare alto un giocatore del Verona, del Sassuolo, della Fiorentina, cioè non è così complicata, perché hanno tutti dei giocatori fisicamente molto forti come te, non è che ce ne sono proprio tantissimi. Poi sì, sui movimenti quello diventa abbastanza complicata. L'ultima domanda, anzi ancora due. Io ho provato a leggere un po' in Germania come è stato preso questo trasferimento e ho notato che molti tifosi comunque sono un po' dispiaciuti dall'operazione. Ma secondo te, per loro, è un giocatore che viene bocciato e va in una squadra un po' più piccola o un giocatore interessante che viene comprato da una squadra di pari livello? Cioè come la leggono loro un'operazione così? No, vabbè, guarda, più la seconda che la prima. Lui secondo me piaceva molto anche perché era uno che se non giocava stava zitto. I giocatori che quando non giocano stanno zitti piacciono a tutti. Allenatori, tifosi e soprattutto dirigenti, i presidenti compresi. Penso che sia stato da più quel discorso lì. Poi, se devo essere sincero, non so quanto ancora Leverkusen fosse il posto giusto per lui. Quindi da questo punto di vista credo che anche a livello di tifosi così, sì, ci sia del dispiacere, ma anche la consapevolezza. Dispiacere relativo, eh, ovviamente. Sì, esattamente, esattamente. Che poi comunque è finito il suo ciclo in quella squadra, va da un'altra parte. Chiaramente la stima dell'Atalanta comunque è alta perché, insomma, abbiamo visto la finale scorsa e abbiamo visto che, insomma... Per lui a tutti gli effetti non dico che è una promozione, ma è comunque un mantenimento del livello, eh. Esattamente. Poi, secondo me, se sarà effettivamente così o non così, lo vedremo quando poi vedremo il suo minutaggio in campo, perché chiaramente, sai, se vai ai giochi allora è un conto. Se vai a un giochi, mi fatica. A livello contrattuale, ecco, un altro tema molto interessante è il contratto. Lui aveva, l'Everkusen, ancora il primo contratto firmato quando è arrivato dal Brugge. Quindi, insomma, un contratto in cui non avevo uno stipendio per niente, ricco, credo, forse intorno al milione, ma è una supposizione che sto facendo io, andando a memoria. Non ho verificato questa cosa, ecco. Non è uno che ti spenna, ecco, ti fa spennare. Quindi, ecco, questo secondo me è un tema. Capito, intanto, mi si è spenta la telecamera, mi sarà scaricata la batteria, però, grosso modo, devo dire che tutti i vari temi li avevamo toccati. L'unica roba che volevo chiederti ancora, andiamo con la vecchia, l'ultima cosa che volevo chiederti era, appunto, secondo te, che minutaggio avrà? Cioè, è un giocatore che si può inserire bene in squadra o magari sarà un più nella seconda linea? No, ma allora, secondo me, lui all'inizio non farà tantissimi minuti, secondo me, non mi aspetto che venga buttato dentro e nella... ma anche perché poi comunque stiamo a vedere anche un po' la storia recente, no? Gli acquisti che arrivano dalla Serie A hanno subito impatto, anche Yen, sempre nel parlare di Brescianini, ma anche Samard, comunque sarà uno che giocherà tanto da subito, secondo me. Quelli che vengono da fuori, tranne Lukman, che ha avuto un inserimento straordinario ed è un po' anche un po' un'eccezione da questo punto di vista, ci hanno messo magari un pochino di più. Io penso che non sarà un giocatore che avrà subito minuti straordinari. Ora, fare una stima faccio un po' fatica. Penso che in campionato... Alla fine della stagione, lo vedi come... Io penso che farà buona metà delle partite di campionato. Se mi dici, nell'undici titolare, se dovessimo giocare un ottavo o un quarto di finale, ce lo metto, ti dico, vedendo come funzionava Jim City e Encolasinac, forse faccio un po' fatica. Però lì, secondo me, bisogna fare anche molto un discorso sulle caratteristiche degli avversari. È uno di quelli su cui sicuramente puoi fare un affidamento se devi giocare una partita importante. Ecco, io mi aspetto che sia un giocatore che non viene messo ai margini come l'ultimo arrivato dal Bayern Leverkusen. Ecco, visto che comunque il precedente, con Leverkusen è fresco e non è andato comunque benissimo, perché insomma, lo dicono i fatti. Poi, magari quest'anno diventa il nuovo Gosens o chi altro, però insomma, per ora non è stato così. Però ecco, mi aspetto che sia un giocatore pienamente dentro le rotazioni, questo sì. Perfetto, era quello che volevamo sapere. Io, Giorgio, ti ringrazio tantissimo. Grazie mille, vi ricordo. Poi magari metterò i tuoi riferimenti, ma oramai chi è che non ti conosce? Sei oramai su tutti i social, anche te, anche grazie a Bergamo News, la Gazzetta, una roba e l'altra. Grazie mille del tempo che ci hai dedicato. Ricordo a tutti di iscriversi al canale, lasciare un like, un commento e noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao, ragazzi.